Ciao di nuovo a tutti. Sono tornato per un altro video. E per il video di oggi ti mostrerò come creare avatar in WhatsApp. Quindi, senza ulteriori indugi, cominciamo. La prima cosa da fare è aprire la tua applicazione WhatsApp. Quindi tocca i tre punti in alto a destra. E tocca in impostazioni. Quindi tocca in avatar. Tocca in crea il tuo avatar. Quindi tocca in crea manualmente. Ora scegli una tonalità della pelle. Quindi tocca in avanti. Quindi scegli un'acconciatura per il tuo avatar. Quindi tocca in avanti. Quindi scegli un colore di capelli. Quindi tocca in avanti. Scegli la forma del viso che preferisci. Quindi tocca in avanti. Ora scegli un outfit. Tocca in fine. Ora scegli in salva modifiche. Tocca in avanti. E basta. Hai creato il tuo avatar. Grazie per aver guardato.